non insegnerò più chi si fa avanti ancora pochi anni e non insegnerò più quindi mi appresto a precisare tutto quel che posso non devono rimanere dubbi sul conto del reiki mi hanno scritto dopo la tua sono sorte altre scuole reiki con il principio dell'offerta libera trovo che sia una buona cosa ti pare no non sempre mi pare perché il fatto di insegnare ad offerta libera non è di per se stessa una garanzia di qualità dei corsi non dovete soffermarvi solo su questo fattore per giudicare se vi insegnano per esempio che un operatore reiki possa trasferire la propria energia cosmica dal suo corpo ad un altro poco importa che vi insegnino una bufala ad offerta libera sarebbe meglio che vi facessero pagare una sana e corretta informazione se vi dicono che durante le iniziazioni si possono avere visioni di angeli spiriti guida o divinità di ogni genere senza spiegarvi che in verità qualunque visione accade a causa di normali episodi ipnagogici o ipnopompici vi stanno rifilando un insegnamento sensazionalistico e qualunque offerta facciate la farete dopo essere stati presi per il naso se vi convincono che se durante le iniziazioni vi accade di piangere o di lasciarvi andare emotivamente ciò sia dovuto all'energia cosmica che il maestro ha trasferito in voi non sanno nulla del fenomeno psicologico chiamato abreazione e le vostre offerte libere saranno date in cambio del nulla illusorio alimentando il fanatismo se vi vogliono far credere che vi doneranno la possibilità di guarire le persone a distanza usando simboli mentali dal potere oggettivo vi stanno solo gonfiando di orgoglio e presunzione sia che vi illudano gratuitamente o a pagamento la qualità di un insegnamento non dipende dai costi ma nemmeno dall'essere proposto ad offerta libera bensì dal corretto insegnamento che prevede gli aspetti filosofici psicologici antropologici e neuroscientifici insegnati in totale trasparenza e onestà intellettuale chi si fa avanti chi insieme a me ora e dopo di me poi aiuterà chi soffre a non essere oggetto di sfruttamento sia esso economico o psicologico tratto dal corso Reiki ad offerta libera dello studio Gaia Trid di Monza Grazie a tutti